E bufera sul coordinatore cittadino della Lega di Ponte Cagnano-Faiano Nino Blotta dopo il post apparso prima sul suo profilo personale e poi sulla pagina ufficiale del partito riferito a Stefano e Dilaria Cucchi. Il primo è stato definito un portatore di morte, la seconda è stata destinataria di un epiteto non ripetibile. Una miccia che ha fatto scoppiare una polemica non placata neanche dalla cancellazione del post avvenuta poche ore dopo. Totale la dissociazione da parte di moltissimi esponenti del panorama politico locale, membri della Lega compresi. L'interessato dal canto suo parla di fraintendimento. Volevo condannare la speculazione sul caso Cucchi, afferma. Ho un figlio e posso capire il dolore che si prova.